Buongiorno a tutti da Bambu Facile, con questo video girato qui in provincia di Bergamo andiamo a intervistare Marcello Valli che ci spiegherà come nasce una cannuccia di bambù totalmente made in Italy ma soprattutto a chilometro zero e certificata. Buongiorno a tutti, allora in questo progetto che nasce da questa società che si chiama Italbu vi mostriamo oggi il nostro prodotto che è appunto una piantagione di bambù e questo è quello che noi andiamo a tagliare dalla nostra foresta come potete vedere la canna con tutti i suoi rami, le poche foglie diciamo che sono rimaste ma questa è la canna nuda e cruda che si trova nel campo noi andiamo a tagliarla, poi portarla in un apposito spazio dove noi andiamo a tagliare tutti i rami quindi vedete qui che viene pulita e poi fascettata a un numero e un diametro che ci è stato precisamente richiesto perché noi di Bergamo ci piace lavorare in modo più preciso possibile e dalla pianta ai fasci andiamo a ricavare queste cannucce queste cannucce le vedete sono un prodotto made in Italy se posso made in Bergamo che da Bergamasco ne vado onorato che hanno una certificazione europea di prodotto di ben due anni quindi è stato fatto un lavoro molto importante, molto avanti quindi di cui andiamo fieri dove appunto andiamo a sfruttare quelle piante che sarebbero state scartate invece vengono riutilizzate per questo prodotto che in questo soprattutto periodo dove di sprechi, di inquinamento eccetera dove la plastica viene usata fin troppo quindi ne andiamo a busare andiamo a creare un prodotto che invece ci dà un'opportunità di aiuto ambientale e quindi un prodotto dove andiamo a eliminare il più possibile l'utilizzo della plastica ovviamente questo è uno dei primi progetti però ce ne saranno molti altri in futuro e quindi andremo a vedere cosa ci porterà grazie a tutti, buon bambù a tutti